L'assessore all'urbanistica del comune di Pesaro, Andrea Nobili, è stato protagonista di un inseguimento in e-bike ad uno scooterista fuggitivo che non si è fermato dopo lo schianto a prestare i soccorsi. L'assessore ha memorizzato la targa e lo ha fatto rintracciare dalla polizia locale. L'incidente tra due scooter in zona muraglia, Pesaro, di cui Nobili è stato testimone, è avvenuto l'intersezione tra via Tumiati e via Secchi. Nobili, alla vista dello scooterista di 35 anni, che dopo aver causato l'incidente con l'altro scooterista a 60enne, ha tentato la fuga, lo ha inseguito con la sua bici elettrica senza esitazioni, arrivando a leggere la targa dello scooter e memorizzarla, per poi fornire le informazioni agli organi di polizia. In poche ore il proprietario del mezzo è stato identificato. Per il 60enne, 30 giorni di prognosi, è stato già dimesso dall'ospedale. Allora, assessore Nobili, come la possiamo definire? Un assessore eroe? Ma assolutamente no, ho fatto quello che penso ogni altro cittadino nella mia situazione avrebbe fatto. La cosa che fa piacere è che ho capito quello che poteva diventare la situazione, quello che sarebbe potuto accadere e quindi sono stato abbastanza attento e mi ha permesso poi di fare quello che ho fatto. Non ho fatto niente di più. Ecco perché questo scooterista in quel momento era rimasto lì per lì sul posto, poi piano piano si è dileguato, no? Lo scooterista era rimasto lì, anzi stava parlando con le persone che erano arrivate sul posto prima di me, ma la cosa che mi ha insospettito è che è sempre rimasto sullo scooter senza mai togliere il proprio casco e nel momento in cui solitamente uno ha un incidente tendenzialmente si preoccupa di prestare soccorso e comunque di vedere quello che sta accadendo. Un gesto di civiltà è anche un buon segnale, diciamo il suo è stato più che altro istinto comunque? Tutto istinto, sicuramente un gesto che, come ho già detto, i cittadini fanno, un senso civico così come l'ho fatto io che ho seguito perché ero in bicicletta che mi ha permesso di prendere parte della targa e così come gli altri cittadini che erano lì hanno dato altre informazioni che hanno poi reso possibile alla polizia locale tramite l'indagine di intervenire e intercettare la persona che era poi scappata.